Allora sono Walter, un grande frequentatore delle serate mondane di La Spezia e detto Gigi Rizzi per le amiche che sono queste bellissime donne E come mai hai scelto Porto Mirabello? Perché è l'elite di Spezia e quindi noi del resto siamo nell'elite di Spezia e non possiamo che venire qua Sei venuto per il buffet? No no Niente buffet? No no abbiamo anche fatto il buffet però veniamo perché ci piace il posto e la gente che c'è Ti trovi bene con la serata via? Molto bene, veniamo tutte le domeniche sere Bene, grazie Ecco, puoi dire qualcosa anche a loro che mi fa solo che piacere Grazie